Ciao ragazzi e ragazzi, sono Roberto, sono il Sales Director di Indeed per l'Italia, mi occupo del Team Growth, il team che all'interno di Indeed si preoccupa di sviluppare soluzioni più complesse per i clienti più importanti, quindi soluzioni di talent acquisition e employer branding in particolare. Ho un background importante in ambito HR, quindi per me la sfida è stata quella di raccogliere in qualche modo l'opportunità di sviluppare il mercato HR secondo quelli che sono i temi della innovazione per i prossimi anni. Indeed è l'azienda leader al mondo e per questo motivo ho scelto di venire a Dublino, una scelta di vita e professionale importante. La prima volta che sono venuto a Dublino è una società bellissima, accogliente, in un'azienda che dà la possibilità e l'opportunità a tutti quanti noi di sviluppare il proprio Career Path. Vi aspetto numerosi a Dublino, ci divertiremo insieme, grazie. Grazie.